Sono i sei membri di giuria che io ringrazio appunto per il loro lavoro in una fase di pausa estiva in cui non era così semplice insomma essere presenti, cioè dall'inizio a fine agosto sostanzialmente hanno espresso i loro pareri. I giurati hanno lavorato in autonomia e consegnato la loro valutazione senza diciamo così avere un momento anche per ragioni proprio legate al momento estivo, un momento plenario diciamo di confronto. Quindi l'esito diciamo del concorso è dato proprio dalla loro somma, dalla somma dei punteggi che loro hanno assegnato a questi lavori. Quali sono i criteri secondo i quali hanno lavorato? Sono quelli di una valutazione della chiarezza espositiva e dell'efficacia comunicativa di questi video, della qualità tecnica, quindi musica, immagini, montaggio e del contenuto scientifico, della sua attualità, pertinenza, rilevanza, utilità, insomma ciascuno ha dato un parere personale anche su questo aspetto. Questo per quanto riguarda il premio per la giuria, vi ricordo che ci sono due premiazioni, ci sarà la premiazione dei primi tre classificati dalla giuria e poi ci sarà il primo classificato con il premio del pubblico. Solo un velocissimo commento sui premiati, così per un ragionamento, una riflessione più ampia, poi passiamo direttamente alla premiazione. I proponenti più giovani sono quelli che ci sono classificati per primi, senza dire i nomi, ma l'arco temporale è quello della classe di nascita, che non si dovrebbe dire forse in caso, quindi lasciamo stare, ma insomma oltre le 85. Sono giovani ricercatori non strutturati, sono dottorandi o addirittura laureandi. L'area geografica che copre i premiati prende il nord, il centro e il sud Italia, quindi è interessante anche questo, anche se non era un criterio previsto. Il podio è prevalentemente femminile, quindi la geografia visuale, la public geography è donna, probabilmente, non sappiamo. Grande qualità e varietà di prodotti, questo lo dico anche a nome dei membri della giuria che sono rimasti anche stupiti di questa dimensione amatoriale dei lavori, ma tutto sommato invece di grande dignità. La strumentazione oggi è sempre più facilmente reperibile, questo aiuta moltissimo e quindi facilita anche il lavoro, che prima potrebbe essere più costoso, più faticoso, ma certamente c'è anche una sensibilità alle spalle che premia questo risultato. Il premio che noi diamo è un premio simbolico, quindi non ci sono premi in denaro o cose di questo tipo, è un premio uguale per tutti, perché riteniamo, anche vedrete poi dal punteggi che la giuria ha affidato, che lo scarto tra questi primi classificati sia davvero minimo. Il vero premio, io credo, è la visibilità e la forza che il messaggio ha acquisito attraverso questa iniziativa. La visibilità che continuerà a rimanere nel canale Mediaspace, ne parlavo con Marco appunto, noi possiamo garantire sicuramente che questi video rimangano lì con questo canale Geografia in a Clip per almeno un anno ancora. E quindi credo che questo sia un bel premio in termini di visibilità e di immagine per la geografia. Il premio è un attestato, è un piccolo giochino, è un piccolo giochino, è un gioco di mollette, molto semplice, vi faccio vedere qui, che è un premio simbolico, è ovviamente un premio diciamo marchiato all'Università di Padova. Sono queste mollette che come vedete sono degli omini, degli omini che si possono utilizzare come fermacarte chiaramente, ma insomma sono degli omini che tra di loro cooperano e lavorano e possono interagire anche con questi strumenti. Sì, omini e donnine qui non si distingue, ma possono anche uscire da questa piattaforma che è l'Università e quindi possono sparpagliarsi per il mondo come hanno fatto effettivamente questi video. Ecco, questo era solo per raccontarvi il senso di questo premio, l'altro premio lo spiego dopo quando lo consegnerò io personalmente. Come dicevo, grandissimo equilibrio tra le prime posizioni in classifica con grande incertezza tra alcuni video che sono risultati abbastanza appaiati nel punteggio o a pochissimi punti di distanza. Non sia considerata scarsa trasparenza il non pubblicare completamente la classifica, lo faccio perché ritengo che non sia giusto far vedere chi è arrivato ultimo, anche perché credo che l'obiettivo non sia quello di vedere il peggiore, ma vedere solo i migliori e a tutti gli altri invece un plauso e un incoraggiamento a continuare su questa strada e quindi a perfezionarsi e migliorarsi. A chi fosse però direttamente interessato per questioni di trasparenza posso inviare la classifica, diciamo, completa. Bene, veniamo alle premiazioni. Il premio del pubblico lo dico io dopo e spiego anche il criterio di giudizio del premio del pubblico. Allora, cominciamo con... Ah, scusate, io ho preavvertito i premiati ma non sanno in che posizione sono, quindi è una sorpresa anche per loro, quindi ok, mi sono rassicurato che fossero presenti, ma come nei grandi concorsi non lo si dice mai fino alla fine. Allora, cominciamo dal terzo premio, che è un premio ex equo, con 91 punti complessivi. Il primo video, diciamo, di questi due ex equo al terzo posto è quello di Sara Carallo, portale culturale partecipativo www.valledellamaseno.it. Siediti pure lì un attimo, lo vediamo assieme e poi consegniamo il premio. Prego la regia, grazie. Il portale culturale partecipativo www.valledellamaseno.it è un progetto finanziato dalla Regione Lazio in collaborazione con il Dipartimento di Studi Umanistici e il Laboratorio Geocartografico Giuseppe Caraci dell'Università degli Studi di Roma 3. L'obiettivo di questo progetto è stato quello di elaborare una metodologia per la valorizzazione e la fruizione sostenibile del patrimonio locale, materiale e immateriale, attraverso il coinvolgimento attivo delle comunità locali in tutte le fasi del progetto. Il caso di studio scelto è la Valle dell'Amaseno, che si trova nella Regione Lazio, tra le province di Latina e Frosinone. Si tratta infatti di un territorio con un grande patrimonio storico, culturale ed archeologico ed una ricca biodiversità. La prima fase del progetto è stata dedicata all'analisi delle dinamiche evolutive e dei processi di territorializzazione attraverso l'uso delle fonti geostoriche. Particolare attenzione è stata dedicata alla cartografia storica, che ha fornito una chiave di lettura strategica per decifrare la complessità culturale e paesaggistica del territorio in esame. Le fonti di archivio sono state poi integrate con la ricerca sul campo. Attraverso l'uso delle tecnologie e dell'informazione geografica è stato censito il patrimonio storico-culturale e naturalistico e tutti i servizi turistici potenzialmente utili a un viaggiatore. Per promuovere la fruizione del territorio è stata elaborata una rete di itinerari ecoturistici, strumenti culturali che aiutano il viaggiatore a conoscere e riscoprire in modalità lenta e profonda il territorio. Attraverso il lento procedere dello spostamento a piedi, l'uomo sviluppa gradualmente un profondo senso di responsabilità e cura verso il territorio, quella che il geografo cinese Hi Fu Tuan definisce topofilia, un legame affettivo tra i luoghi fisici e gli uomini da cui è possibile cogliere il genius loci. I dati acquisiti e rilevati sul campo sono stati analizzati ed elaborati in formato digitale in un sistema informativo geografico e successivamente sono stati trasferiti sul portale culturale partecipativo valledellamaseno.it. Per rendere questo strumento più coinvolgente interattivo è stato realizzato un web GIS in cui è possibile avere informazioni dettagliate sui borghi della valle, come raggiungerli attraverso trasporti pubblici sostenibili, informazioni sul patrimonio naturalistico e anche su quello archeologico. Sono stati inseriti anche tutti i punti di interesse, le attività commerciali censite sul campo e la rete di itinerari elaborata. Per ogni itinerario è possibile consultare una dettagliata scheda tecnica e iscrittiva. Tutto questo materiale è possibile scaricarlo gratuitamente sul proprio pc. Infine sono state georeferenziate alcune carte storiche per offrire agli utenti la possibilità di poter analizzare le trasformazioni attuate sul territorio nel corso dei secoli. Questo portale rappresenta uno strumento culturale dinamico attraverso cui promuovere i valori della mobilità sostenibile, valorizzare il patrimonio esistente e proporre nuove modalità virtuose di fruizione del territorio. Allora legge il giudizio della giuria e poi consegna il premio a Marco Toffani. Allora il video riesce a comunicare un'attività geografica accademica in modo estremamente accessibile, puntuale e piacevole. Didattico nella comunicazione del messaggio, equilibrato nella confezione. Le immagini sono buone e il montaggio ben realizzato, con scelte di fondo che realizzano una sorta di video flyer del progetto. Bell'esempio di come la geografia possa supportare la promozione di un territorio, contribuendo a rigenerare e a rafforzare il senso dei luoghi, grazie ad un approccio organico che unisce documentazione storica e nuove tecnologie. Puoi tirare il premio a Sara Carallo che è l'autrice. Un breve commento penso sia d'obbligo. Sara. Grazie, ringrazio moltissimo la giuria. Sono molto lieta che la mia ricerca sia stata apprezzata e ovviamente ringrazio anche il Dipartimento di Studi Omanistici, la Regione Lazio che hanno finanziato questo progetto, il professor Claudio Cerreti, mio tutor, la professoressa Carla Masetti e basta. E' un progetto per il territorio e con il territorio, fin dall'inizio, da quando è stato insomma progettato. Grazie. Grazie a te. Università di Roma 3, avevo dimenticato di dirlo prima. Passiamo al secondo video, terzo classificato ex equo, che è il dissecamento degli olivi in Puglia di Lucia Uni e Margherita Cervo. Vediamo il video. Grazie a te. Grazie a te. Grazie a te. Grazie a te. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Allora, Margherita Cervo, Università di Foggia, non è presente qui per motivi familiari purtroppo, si è dispiaciuta molto, ritira però il premio in sua vece come delegata, Isabel Dumont, grazie, e consegna il premio, no, legge prima il giudizio della giuria, Marco Tofanini e poi consegna il premio. Ok, il video parte da una tesi precisa su una questione estremamente controversa, spiega con chiarezza le ragioni della scienza e le due correnti di pensiero su un doppio piano di merito e di metodo, ponendo la questione dell'apporto pluridisciplinare alla risoluzione dei problemi. Immagini sugli stradicamenti molto efficaci, utile l'infografica, buona la composizione tecnica, ottimo l'abbinamento con musica e montaggio. Consigliamo il premio, eccole. A nome ovviamente di Margherita ringrazio la giuria, ringrazio tutte le persone che hanno votato per il clip di Margherita, e Margherita mi ha chiesto gentilmente di insistere su due aspetti del suo video. Uno, ricordare che questo video si iscrive in un lungo progetto di geografia sociale, un'esperienza, un percorso di geografia sociale e più specificatamente sul progetto di Geovisum, che ha come un doppio obiettivo, uno, ne abbiamo anche parlato molto in questi giorni, uno di diffondere la ricerca scientifica, però cercando di farlo in un modo piacevole. Quindi questi sono i due obiettivi che Margherita ha cercato di fare in questo video. Grazie. Grazie, grazie Sobel. Vengo velocemente al secondo premio, il secondo premio con 98 punti è stato attribuito a Amazzonia, tra popolazione indigene e petrolio di Alberto Diantini, Università di Padua. Vengo la leggenda per partire il video. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. ... La impresa si dio. Si dio planche. Non si culparano la impresa, di una scuola, sino di malo. quindi per questo la torre questa persona da qui le sacarono e le trasportarono al villano a Paz per fare il lavoro la compania Pérez Pizzo stava all'interno al plazzo legge il giudizio della giuria Farah Polato in Amazzonia si gioca una delle battaglie cruciali per il futuro del pianeta e dell'umanità il tema di grandissimo interesse scientifico è particolarmente apprezzabile sul versante della storia la declinazione contemporanea del lavoro sul campo e lo slancio nello studiare e far conoscere questioni lottane geograficamente e mediaticamente sono meritevoli il video centra l'obiettivo perché è estremamente didattico nel comunicare l'attività in oggetto ed equilibrato nella confezione nel tentativo riuscito di dare una sceneggiatura dinamica ed emotiva al prodotto un bello spot per la geografia Buon pomeriggio a tutti ringrazio la giuria ringrazio il professor Mauro Varotto e i colleghi del laboratorio di documentazione di tecniche documentaristiche sono un po' emozionato ringrazio il gruppo amazzonico territori delle diversità biologiche e culturali anche detto G.S. Macete di cui ieri avete ascoltato qualcosa una mitragliata di Eugenio penso che queste videoclip queste clip di geografia siano un utile strumento per veicolare quello che si fa a livello di ricerca noi abbiamo parlato ad esempio di un tema fondamentale della ricerca geografica che è il lavoro su campo e abbiamo cercato di renderlo più fruibile possibile grazie e veniamo al primo premio con 99 punti quindi un punto solo in più rispetto a quello dell'Amazzonia il primo premio il primo premio va a Dove nuotano i caprioli di Maria Conte vediamo il video è il primo periodo proprio che si sono spazzate è stato veramente terribile si aveva paura tanta paura perché si sentiva proprio le crepe del muro la notte è ancora più impressionante tutta l'acqua che c'era che c'erano penso 50 milioni di metri cubi che all'inizio teneva questo bacino una certa pressione su un terreno come questo di Valle Sella che aveva delle grotte sotto quello sicuramente ha influenzato la nostra piazza a Valle Sella che l'era fatta in modo speciale l'era il centro della vita del paese ci si aiutava si faceva compagnia era bello adesso invece il vivere del paese è stato distrutto per conto mio siamo come una periferia adesso perché un po' di case qua un po' di case là non mi sento neanche più di Valle Sella cioè io se dico ah sono del centro calore perché Valle Sella è il mio paese non c'è più non esiste il lago non è nostro il lago ha la proprietà e la proprietà il lavoro ha il miglior senso se fa un favore tenetelo pieno pieno luglio agosto e un po' di settembre va bene e se no resta al vaso e l'oro cala e cresce secondo le piogge secondo l'esigenza cose particolari tipo vedere i caprioli che si attraversano quello si è successo alla mattina presto più di una volta e le resta un capriolo che si faceva la traversata perché andasse all'isola o perché tornasse dall'isola è un mistero legge il giudizio della giuria Massimiliano Tabusi riceve il premio Maria Conte Università Ca' Foscari di Venezia Inter Ateneo un padre piccolo documentario su un territorio poco conosciuto dal titolo accattivante buon equilibrio compositivo e bella fotografia efficace è l'utilizzo narrativo di testimoni immagini audio e documenti centrale è la trasmissione della memoria di un paese che non c'è più di un lago che esiste ma non è di chi ci abita attorno poche parole e minima infografica per raccontare non una tragedia ma la vita che va avanti un perfetto esempio di comunicazione dal basso che lascia in chi lo vede lo spaisamento degli abitanti le crepe di un certo modello di sviluppo e il mistero della natura complimenti sono molto emozionata innanzitutto è onorata di essere qui in questo in questa aula prestigiosa di ricevere questo riconoscimento da questa giuria che sicuramente mi sarà di stimolo per approfondire questa ricerca e farne magari insomma un lavoro più corposo perché sicuramente l'argomento si presta credo sia molto ricco ecco tratta appunto di questa trasformazione imponente di un paesaggio quotidiano che ha investito questa comunità e quello che mi ha colpito da subito quando ho conosciuto quando ho iniziato parlare e rapportarmi con gli abitanti di Valle Zella era questo forte senso di perdita persistente ancora 50-60 anni dopo quello accaduto e il fatto appunto che questa periferia percepita che di solito la periferia è in relazione a un centro qui non c'è neanche più il centro si è sgrettolato fisicamente simbolicamente e e niente quindi spero di continuare volevo ringraziare il prof Rottel il prof Toffanin anche il documentarista Michele Trentini che nel contesto del laboratorio di tecnica documentaristica mi hanno appunto spronata grazie grazie Maria Conte è piacere pensare che la prima classificata è una laureanda ancora quindi è veramente il nuovo che avanza insomma non sono così abile a fare i premi non puoi impacciare la prossima volta forse manca il premio del pubblico il premio del pubblico vi spiego però come è stato dato perché è interessante anche questo ne abbiamo parlato con Marco che dal punto di vista tecnico ne sa più di me ed è stato affidato attraverso una doppia classifica il numero dei voti e visualizzazioni calmerate con la percentuale di drop off quindi da un lato i like tra virgolette i voti che ha raggiunto e dall'altra il numero di visualizzazioni immediato con questa percentuale di stacco della visualizzazione che era la più bassa o alta secondo il punto di vista cioè il documentario che ha mantenuto agganciato di più il il che lo visualizzava quindi alla mezzanotte di ieri quindi il momento di chiusura diciamo del conteggio aveva 1402 visualizzazioni ho controllato adesso ne ha 1413 continua con un trend costante e 306 voti diciamo da parte di chi l'ha apprezzato va al documentario che avete già visto che è terzo classificato che è il disseccamento degli urivi in Puglia di Lucia Uni e Margherita Cervo quindi prego di nuovo Isabelle Dumont a tirare il premio che consegno io qui consegniamo visto che sono due donne quelle che l'hanno fatto questo fermacarte di Elena Lucrezia Cornaro Piscopia che è la prima laureata al mondo che si è laureata qui a Padova di cui potete vedere la statua scendendo dalle scale qui in Aulamagna grazie e volevo semplicemente concludere dicendo che sono con questo punto abbiamo chiuso speriamo che questo concorso possa essere soltanto il primo di una lunga serie di esperienze e non so se voi volete aggiungere qualcosa io rapidissimamente da delegato oggi siamo quasi in chiusura però volevo ci teniamo a ringraziare gli organizzatori di Padova per tutti questi eventi e lasciatelo dire in particolare Mauro Varotto che la cui passione è come dire attenzione verso questa che è una cosa molto innovativa pensate 1400 visualizzazioni in pochi giorni neanche su YouTube cioè nel momento in cui sarà messo su YouTube sarà visto da molte più persone quando noi come geografi facciamo qualcosa ecco se va bene lo facciamo vedere a 50 o 60 persone pensate il potenziale di un lavoro di questo genere diffuso nel tempo quindi Mauro veramente grazie per la tua passione e invito un applauso Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti